Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di Shiba Inu, Shiba Inu che sbarca nel metaverso dopo i rumors di qualche settimana fa, oggi abbiamo questa notizia confermata che leggiamo dal blog ufficiale di Shiba Inu ma riprendiamo anche la notizia poi da altre due fonti, ci sono quindi novità, come dicevo appunto, molto interessanti come sempre ragazzi, prima di cominciare il video, questa è la playlist criptovalute e valute digitali del mio canale YouTube come sempre tanti video, commentali, lasciali anche un like, ovviamente se ancora non l'hai fatto ti chiedo anche di iscriverti al canale lasciare un like anche a questo video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, ora come sempre sigla e poi cominciamo Cominciamo l'analisi di oggi dal sito di criptovaluta.it che riporta la notizia Shiba Inu Coin sbarca nel metaverso dove arriverà appunto poche ore fa, lo vedevamo appunto sul blog di Shiba Inu, sono emessi dettagli importanti per quanto riguarda SHIB il metaverso appunto di Shiba Inu, una mossa che vedrà ovviamente protagonista la community di Shiba Inu sempre molto molto attenta, questo metaverso sarà appunto il prossimo passo dell'ecosistema appunto di Shiba Inu ovviamente nel mondo metaverso, sappiamo quanto è importante questo sviluppo per Shiba Inu ovviamente sappiamo che sono tanti i progetti che si stanno muovendo in questa direzione ovviamente Shiba Inu non poteva tirarsi indietro, se andiamo a leggere ulteriori dettagli poi viene ripresa la culminazione del progetto di community ecosystem di Metaverse, questa è la frase che ha utilizzato anche nel blog ufficiale che viene anche ripresa appunto da criptovaluta.it ma appunto secondo appunto quello che è disponibile in questo momento saranno utilizzati tutti e tre i token che possiamo ricondurre a questo sistema quindi ovviamente oltre Shiba anche l'ish e bone, ne abbiamo parlato poi anche nelle scorse settimane il tutto accompagnato da Shivalium che sarà sul layer 2 ufficiale del protocollo per quanto riguarda l'aspetto più importante sarà la presenza di plot di terra digitale come si è visto anche in Decentraland, di Decentraland abbiamo parlato anche sul canale nelle scorse settimane e di Sandbox che potrà essere acquistata in Ethereum questa è l'intera mappa con l'infografica, provvederà appunto a quattro quartieri in fase di lancio il Growth District, Defense District, Technology District e il Currencies District il Currencies, ciascun apprezzamento è quello che vediamo qui sotto si va del 0,2 quindi più basso fino a un Ethereum per quanto riguarda il Tire 1 la polemica sull'utilizzo di Ethereum al posto di Shiba qui è questa scelta è stata dettata dal fatto che gli sviluppatori hanno detto di voler utilizzare una coin neutrale per raccogliere denaro per quanto riguarda poi sempre gli impatti che questi sviluppi possono avere sul Shiba Inu quindi sul token principale del progetto al momento appunto a vista della capitalizzazione Shiba Inu fa segnare un più 1% più 11 in cui 7 giorni capitalizza qualcosa come 15,1 miliardi di dollari dal punto di vista grafico è ancora in una fase di lateralizzazione anche se in realtà se osserviamo bene dal punto di vista grafico possiamo vedere come effettivamente da circa metà marzo è andata a recuperare un pochino quelle che sono le posizioni che aveva perso nelle scorse settimane sappiamo anche che la situazione sulle criptovalute si sta leggermente normalizzando comunque sembrerebbe che il peggio possa essere alle spalle con l'inflazione con sicuramente il discorso appunto legato alla guerra tra Russia e Ucraina ma sappiamo anche che c'è un'altra problematica legata alle regolamentazioni europee che potrebbero arrivare nelle prossime ore su questo poi abbiamo degli aggiornamenti da dare magari nelle prossime giornate ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate per quanto riguarda appunto SHIB il metaverso di Shiba Inu se siete interessati ovviamente scrivetemelo qui sotto nei commenti così poi ne possiamo parlare ovviamente se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale lasciate anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube come sempre ragazzi quindi grazie per aver visto il video fino adesso e come sempre ci vediamo sempre sul canale con nuovi aggiornamenti per quanto riguarda le criptovalute un abbraccio e a presto